La città sta affrontando in questi giorni l'emergenza coronavirus e tutti possiamo fare la nostra parte, stando attenti alle regole igieniche, stando in casa il più possibile e uscendo solo per lo stretto necessario. Però c'è qualcuno che è in prima fila a combattere per tutti noi, questo è il personale dell'ospedale delle sangue, personale medico, infermieristico, amministrativo, loro si stanno battendo in prima fila in questa guerra, dove anche noi possiamo fare la nostra parte, non solo rispettando le regole igieniche che il governo ci dà, ma anche portando un contributo a sostegno di questa lotta. Noi possiamo donare alla Fondazione Solidale quello che possiamo, anche poco va bene, perché la Fondazione Solidale può sostenere la battaglia di chi sta in prima linea acquistando le attrezzature mediche e tutto quanto hanno bisogno i nostri medici. Quindi anche tu puoi dare un sostegno concreto e io farò la mia parte, se anche voi fate la vostra parte, insieme possiamo sconfiggere il coronavirus.